Ciao, sono Marco. Nel video di oggi andremo a vedere alcune demo per il tema per WooCommerce Porto. Nei video precedenti, che trovi in parte suggeriti qua sopra e altri all'interno del mio canale, abbiamo iniziato un po' ad esplorare questo tema premium per WordPress Porto, che in sinergia con WooCommerce ci consente di andare appunto a costruire dei veri e propri e-commerce in maniera rapida e professionale. La particolarità inoltre di questo tema, ed è per quello che stiamo visionando tutte queste demo, è che questo tema è stato strutturato con la più ampia vastità di demo, proprio per andare a ricoprire la quasi totalità delle categorie e dei settori merceologici presenti sul mercato oggi e nel contempo andare anche a cercare tutte le varie possibili nicchie di mercato esistenti. Direi quindi a questo punto di non perdere altro tempo e andare appunto a visionare alcune di queste demo per vedere se fanno al caso tuo o di un tuo cliente. Direttamente dalla pagina ufficiale del tema Porto, trovi comunque il link qua sotto in descrizione, andiamo a quelle che sono le demo, come abbiamo già detto negli altri video, il tema Porto nasce per gli e-commerce, per strutturare appunto quelli che sono gli store online, ma non tralascia altre tipologie di temi, di siti che non prevedono e-commerce, quindi abbiamo tanta demo multipurpose, quindi riguardano siti magari corporate, siti magari one page o altre tipologie di sito che non necessitano espressamente di un e-commerce. Noi comunque in questi video andiamo comunque ad approfondire e a vedere quelle che sono le demo riguardanti proprio gli e-commerce e gli store online. Bene, continuiamo con quelle che sono le demo, quindi continuiamo da dove di fatto eravamo rimasti, andiamo a vedere quest'altra demo simile alla precedente che trovi nel video precedente, abbiamo il modale che compare sempre dopo un po', che ci rimanda all'iscrizione della newsletter, oppure possiamo mettere una qualunque con il to action alla nostra scelta, questo negozio, questo e-commerce, questa demo riguarda un po' quello che è appunto un market, quindi viene definito diciamo grosserie, quindi la vecchia drogheria, comunque un demo con tanti prodotti, tante categorie di prodotto, che comunque riguarda un po' il genere alimentare, abbiamo una prima sezione dove abbiamo già come poter ottenere le spese di spedizione gratuite, il cambio di valuta, il cambio di lingua e la possibilità di andare a inserire delle voci di menu di servizio, diciamo quindi quello che può essere il tracciamento dell'ordine o la richiesta di supporto e i nostri social. Abbiamo poi appunto il nostro logo, una barra di ricerca piuttosto importante, data appunto la tipologia di questa demo, quindi ci saranno tanti prodotti, magari la ricerca rende la ricerca più veloce di un prodotto. Abbiamo poi ancora il My Account, la wishlist ed il carrello. Abbiamo un primo menu dove di fatto vengono già messe in evidenza in questa barra diciamo rossa quelle che sono le categorie, infatti questo di fatto questo menu rimanda già alle categorie e successivamente sotto abbiamo un'altra tipologia di diciamo di menu o comunque di bottoni, chiamiamoli come vogliamo, che mandano direttamente o a un singolo prodotto o per esempio a determinati prodotti che sono magari in sconto o a determinate categorie o a prodotti che hanno ottenuto più recensioni, prodotti di un determinato settore o categoria, quindi magari quelli gluten free eccetera. Arriviamo subito alla prima sezione dove abbiamo uno slider, in questo nostro slider possiamo già inserire di fatto dei prodotti o delle categorie dove indichiamo quelle che sono le particolarità dato che possiamo inserire appunto anche dei testi oltre che le immagini e possiamo quindi indicare cosa sono questi prodotti o cosa sono queste categorie o cosa vendiamo nel nostro e-commerce, non è necessario mettere per forza dei bottoni e mandare per forza da qualche parte, potrebbe anche essere semplicemente una prima immagine di quelli che sono alcuni dei prodotti messi in vendita. Qua viene un po' spiegato come di fatto avviene l'acquisto di questi prodotti, quindi lo step 1 è completare l'ordine, lo step 2 è fare un pagamento sicuro e il step 3 è ricevere di fatto l'ordine con quella che è la spedizione. Abbiamo subito sotto un carousel con quelli che sono i nostri prodotti in evidenza, poi successivamente abbiamo un fascione che può essere una call to action o può essere un banner pubblicitario dove comunque indichiamo qualcosa che è in promo, poi abbiamo un'altra sezione dove abbiamo i prodotti con più recensioni che vengono mostrati, ne abbiamo addirittura, sono incolonati da 5 prodotti in due righe, quindi 10 prodotti, abbiamo poi, come abbiamo già visto anche prima, nella demo precedente, dei box dove possiamo indicare una determinata categoria con un'immagine di prodotti e il numero di prodotti appartenenti a quella categoria, con il link ovviamente a quella categoria. Abbiamo poi l'iscrizione alla newsletter per avere le ultime informazioni, gli ultimi sconti, nuovi arrivi eccetera e arriviamo poi a quello che è il footer dove abbiamo una divisione in quattro colonne, il copyright e i metodi di pagamento accettati. Andiamo a vedere un singolo prodotto nel dettaglio, abbiamo sempre questi due menu, diciamo questi due menu iniziali dove comunque possiamo navigare tra le categorie, possiamo muoverci da una parte all'altra, quindi abbiamo piena possibilità di movimento, poi abbiamo la pagina relativa al prodotto dove abbiamo la foto o la gallery del prodotto, il nome del prodotto, le recensioni, il prezzo, la descrizione breve, la aggiungi al carrello e le nostre tab con i prodotti correlati sotto mostrati con un carousel. Qua la visualizzazione del prodotto prende l'intera pagina, essendo che abbiamo di fatto la nostra comunque navigazione non a sidebar laterali ma sul top, quindi abbiamo sempre questi due menu presenti nella pagina. Bene, direi che abbiamo visto questa demo, possiamo passare alla successiva, ovviamente andiamo decisamente a cambiare quello che è il settore merceologico, qua ci stiamo occupando di, per quanto riguarda, ora lo vedremo, ma per quanto riguarda magari quelle che possono essere parti di automobili o semplicemente gomme o cerchi, abbiamo subito un'offerta messa in risalto all'inizio della pagina, abbiamo anche qua il primo menu, il primo fascione dove abbiamo offerte per come ottenere la spedizione gratuita, cambio di valuta, cambio di lingua, dove si trovano magari i punti vendita, se esistono i punti vendita, come avere il tracciamento dell'ordine, il supporto, la wishlist e i nostri social. Sotto ritroviamo il logo, quindi il nostro brand, la barra di ricerca, un numero di telefono eventualmente, se esiste, il My Account ed il carrello. Abbiamo poi un menu di navigazione, un mega menu e abbiamo anche un menu raggruppato dove abbiamo tutte le varie categorie presenti su questo e-commerce. Abbiamo subito in questo carousel quelle che possono essere appunto delle offerte, quindi con immagini ben strutturate, con dei testi che possiamo andare ad aggiungere e con ovviamente il bottone che rimanda a quella categoria di prodotto che stiamo spingendo, al singolo prodotto o a quei particolari prodotti che decideremo noi. Abbiamo la possibilità di andare a filtrare i prodotti per esempio per marca, per modello o per anno di produzione, questo poi lo andremo a scegliere noi e abbiamo la possibilità di appunto ricercare questi prodotti. Inoltre abbiamo una visualizzazione in categoria, vengono mostrate qua le prime quattro categorie in questi rombi molto carini con sotto le loro sottocategorie e in più abbiamo la possibilità di andare a vedere tutte le altre categorie se esistono. Qui abbiamo una sezione di sei prodotti che sono particolarmente in sconto, che sono appunto prodotti che sono super messi in promo, messi lì per essere soltanto acquistati, abbiamo un'altra sezione ancora con un carousel dove abbiamo ulteriori sconti, ulteriore offerte, comunque qualcosa che vogliamo promuovere, poi dei prodotti suggeriti, quindi scelti fondamentalmente da noi, dall'autore dell'e-commerce, quindi dal proprietario, e prodotti anche preferiti da quelli che sono i clienti, quindi saranno i più acquistati o i maggiori recensiti. Abbiamo anche la possibilità di acquistare per marca, quindi possiamo utilizzare questo doppio carousel, perché abbiamo un carousel che ci permette di navigare tra le marche e all'interno abbiamo un altro carousel che ci fa muovere all'interno di questa marca per vedere, questo marghe o questo brand, per vedere quali prodotti naturalmente ci sono. Arriviamo poi a quello che è una call to action, dove potrebbe anche essere una richiesta di supporto o una richiesta di contatto, e poi abbiamo un'altra sezione ancora, sempre carousel, con gli ultimi prodotti che sono arrivati, ed infine arriviamo a ancora tre blocchi che vanno a chiudere l'home page, che sono comunque sempre altre categorie, altre sottocategorie che vogliamo comunque mostrare nella nostra home page. Infine arriviamo a quello che è il footer, suddiviso in quattro colonne, e poi abbiamo copyright e sistemi di pagamento. Andiamo a vedere all'interno un prodotto, per vedere come è la visualizzazione del prodotto, abbiamo all'interno del prodotto quella che è la galleria di immagini o la singola immagine, il nome del prodotto, le recensioni, il prezzo, la breve descrizione, la aggiungi al carrello, le nostre varie tab con tutte le informazioni e i prodotti correlati. Anche qua, come abbiamo visto in altre demo, il prodotto prende l'intera pagina, quindi non abbiamo sidebar di destra, non abbiamo sidebar a sinistra, abbiamo sempre il nostro menu che abbiamo visto che rimane comunque sticky, quindi abbiamo la possibilità di muoverci all'interno delle categorie, grazie a questo menu sticky che resta sempre in alto. Bene, per quanto riguarda anche oggi, direi che abbiamo visto due settori completamente differenti tra loro, abbiamo visto come variano queste demo e come quindi poter utilizzare lo stesso tema, quindi porto per le più diverse esigenze. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video, se comunque hai dei dubbi o hai delle domande, lasciamole scritte qua sotto nei commenti, in modo tale che posso esserti d'aiuto per quanto possibile. Se ancora stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo WordPress, WooCommerce, Tami, Plugin, Elementor, e spulciando all'interno del mio canale non hai trovato quello che cercavi, lasciamolo anche questo scritto qua sotto, così che magari io possa trovare qualche altro nuovo spunto o qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione, proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso, comunque, se questo video ti è piaciuto, mettete un piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!